Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. A Firenze si ricorda che è attivo il prolungamento della linea 1 della tramvia dalla stazione di Santa Maria Novella a Careggi. Gli utenti non dovranno cambiare tram e la corsa sarà gratuita sulla nuova tratta fino al 29 luglio. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!